Seconda sconfitta consecutiva per l'Epicasa Brindisi che torna a bocca asciutta dal doppio turno esterno, perdendo con Tortona e Scafati. I biancazzurri cedono nella beta ricambi Arena 85-84 dopo aver condotto per buona parte la gara, avendo anche 14 punti di vantaggio. Il primo quarto vede partire bene i campani con Pinkins che trascina i suoi con buone giocate dal perimetro, mentre Brindisi stenta ad entrare in partita. Ci pensano poi Harrison e Bowman che escono dalla panchina e garantiscono la parità alla prima sirena, 23-23. A coach Vitucci serve poco per organizzare il quintetto giusto e dopo un minuto circa dall'inizio della seconda frazione è già più 5-Picasa, 28-23. I pugliesi sono trascinati da Reed in serata, poi in evidenza anche mezzanotte con Bowman che dette ritmi alla pausa lunga sono 12 punti di vantaggio per i pugliesi, 50-38. Quando si torna in campo la New Basket impone il proprio gioco, Perkins inizia a fare canestro, mentre Scafati si vede a sprazzi con individualità. Tutto sembra facile per la compagine di Frank Vitucci, ma Stone e Rossato piazzano le triple per riportare la Givova sotto la doppia cifra, 68-62 al trentesimo. L'ultimo quarto è più equilibrato con i biancazzurri che tengono il vantaggio fino a quando non sale in cattedra per i campani il capitano Rossato che scrive i punti dalla linea di 6-75 che riaprono la sfida. Non manca il solito Logan che brucia la retina tagliando le gambe alla difesa di Brindisi. Nonostante tutto i pugliesi non mollano e rimangono aggrappati al match pur sbagliando tanto in attacco. Sul meno 1, 85-84 e due secondi da giocare, l'Epicasa ha la possibilità della vittoria ma Bowman va a sfondare su Stone, fischio più che discutibile. Pur perdendo, non cambia nulla in classifica per la formazione del presidente Rando Marino che rimane sesta e domenica attende nel Palapentassuglia la temibile Dinamo Sassari di coach Piero Bucchi, gara fondamentale per l'accesso alla griglia playoff.